Ciao a tutti caroli e bentornati dall'Arisman 5 carissimi Dovete sapere che oggi è un giorno speciale E come mai è così speciale? Perché oggi usciranno 5 e 3 del reaction sul mio canale Come mai? Ma oggi mi uscirà bene E no ragazzi, e quale vorresti sentire? Invece no Ragazzi, ieri c'è stato il Super Bowl Un evento americano che interessa soprattutto agli ameriani Ma anche me, perché ho pensato Devo cogliere il momento E quindi oggi 5 trailer reaction, 5 spot Che sono usciti durante il Super Bowl Quindi ragazzi, mi raccomando, carichi Perché dovevi iniziare a spolliciare Iscrivervi al canale e attivare la panellina Se ancora non l'avete fatto E poi dovevi fare il resto Commentare e condividere il video con amici, cucini E fratelli, e beh, anziani, nonni, nonne Tutti, perché ora iniziamo con E la prima trailer reaction Sto parlando di Jurassic World Il secondo trailer Il regno è distrutto Quindi, e partiamo Dagli e bomba Ecco Inizia tutto molto inquietante, eh Quindi male, male, male Perché io c'ho la strizza E' un casino Ma eccoci Madonna buona Ricordi la prima volta che hai visto Un dinosauro Ma Non l'ho mai visto Non riesci a credere ai tuoi occhi Eh, ci credo Ecco me Un miracolo Boia Oi Ecco Sento qualcosa È il T-Rex, è il T-Rex Smettila Non è il T-Rex Infatti È qualcosa di peggio Ecco Oh Ok Che, 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 che Che di berce è Lo sai che non puoi stare qui Ammazza Oh raga Mamma mia Anche qui berciano Maiala È tutto a posto Piano Piccola Appartengono al passato Eh Non c'ha tutti i sorti, eh Sono morto Ancora Ancora Anche qui berciano Mamma mia Il T-Rex Che cosa è quello? L'hanno fatto loro Cosa? Calma, eh Blu Stiamo scherzando? Una battaglia tra dinosauri In una cameretta In una stanza Di una bambina Ok raga Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo Setteciun Jurassic World Il regno distrutto Ma di che? Il regno della paura Cioè Raga Una cosa è certa Io Mi cacherò a sotto Quindi Mi preparo Mamma I pannolini Dai Dai Ma è Scott X Eh E vabbè Andiamo E ce la facciamo Ci arrangiamo lo stesso Dai Ok ragazzi Allora E il pannolino L'ho fatto Vabbè Quando è che esce Il trailer Il 7 giugno Quindi C'ho ancora tempo Quindi per fare Un pannolino Un po' meglio Eventualmente Per comprarlo Ci ha fatto Eh Non si sa Ma quindi ragazzi Sapete come è andata No? Di sicuro la strizza c'è Quindi se vi iscrivete Al canale Vi regalo Un pannolino Gratis Eh Quindi ve lo regalo Ragazzi Ma che c'è da di sto trailer Ma poco Perché Anzi Un pochino di roba c'è Ovvero Che è un gran casino Il tutto Perché C'è la gente Che vuole far fuori Sti dinosauri E altra gente Le vuole tenere Per bellezza Per guadagnare Il money Ragazzi Ebbene Sinceramente Entrambi Non c'hanno tutti i torti Eh E poi ho capito C'è una lotta Di dinosauri In Vabbè Lasciamo stare Ho già belle detto tutto Quindi ragazzi Non ci si vede Con un prossimo video Tra po' Perché ci sarà La seconda Trader reaction Di questa Fantastica giornata Quindi vi aspetto E dove fare Qua accanto Iscrivervi Di solito Guardare Un mio fantastico video Come sempre Se non l'avete ancora fatto Guardateli Tutti E spolliciate Quindi Non ci si vede E tra poco Con un prossimo video Ciao Mamma mia Vado a comprare subito i pannolini Ne ho bisogno